Per me ballare significa la capacità di poter realizzare le mie aspirazioni come essere umano, cioè la capacità appunto di andare in quel luogo in cui mi posso liberare da ogni ostilità, rancore e critica. Ho deciso di specializzarmi in danze africane dei Caraibi perché sono molto interessata ad esplorare le danze della diaspora, perché mi considero la figlia, una figlia, della nuova diaspora italiana. Il legame che trovo tra l'Italia, la cultura italiana e l'Africa sicuramente sono il calore dei suoi popoli, i colori e la resilienza del grande continente africano e della penisola italiana. E soprattutto mi viene in mente i miei genitori, cioè la capacità di due persone di creare qualcosa di straordinario come la vita, al di là dei giudizi che vengono imposti dalla società, al di là delle differenze. Grazie